GRU! GRU! Ma che stai facendo? LIBERAMI! OI! Si è rotto! Sta arrivando! Ciao, mi chiamo Riccardo e sono arrivati dei clienti! Oh no, mi sono incastrato! Riccardo, aspetta! Ti do una mano a liberarti! Ecco qua! Oh, grazie mille, cacciavite! Vediamo chi è arrivato! Ehi, salve barca! Qual è il problema? Riccardo, stavo lavorando al porto! Eccomi al porto! Ehi, GRU! Ho portato un po' di cose! Bene, carica tutto sulla barca trasporta merci! Eccomi, amico! Cosa devo trasportare? Barca! Devi portare delle ruote! Però vedo che non hai abbastanza spazio! Non ti preoccupare, ho una botola abbastanza grande! Perfetto! Abbasso il gancio! Abbiamo caricato la botta del vino, ora tocca alle ruote! Ehi, voglio darvi una mano anche io! Bene, posso partire! Qualcosa non va! Ehi, ma che sta succedendo? GRU! Lasciami! Lasciami! Aspetta, aspetta! GRU va a liberare il giancio! Gru! Gru! Ma che stai facendo? Liberami! Ah, scusami! Dovremo caricare tutto un'altra volta! Oh no! Non riesco a chiudere il portiere! Oh, si è rotto! Barca! Devi andare da un meccanico! E come faccio? Io posso andare solo su acqua! Non ti preoccupare! Salta su! Tranquilli, torno presto a caricare la merce! Ah, ora è tutto chiaro! Tranquillo! Ora do un'occhiata! Vediamo un po'! Il portellone destro non si chiude! E nemmeno quello sinistro! Ho bisogno di fare un test! Però mi serve un bullone! Guarda che bella campona! Wow! Ma mi piace un sacco! Ragazzi, silenzio! Mi disturbate mentre sto lavorando! Ah, facciamo qualche scherzo a Riccardo! Sì! Ah, ci sto! E ora rinforziamo anche da questa parte! E anche qui! E continuiamo ad avvitare! Ah, adesso vediamo che succede! Ehi! Ha suonato il campanello! Ma io qui non vedo nessuno! Il campanello funziona bene! Molto strano! Riccardo, ti stavo prendendo in giro! Dovevi vedere la tua faccia! Ragazzi, siete molto divertenti! Però io ho ora da fare! Va bene! Ti diamo una mano d'aiuto! Diamo una sistemata qui lungo i bordi e anche da questa parte! E ora controlliamo la chiusura dei portelloni! Questo chiude perfettamente! E anche questo! Sì! Che bello! Cara Barca, possiamo dire che finalmente la riparazione è terminata! Ti ringrazio, Riccardo! Bene! Ti riposiziono sul caro attrezzi e ora ti riporterà al porto! Grazie mille! A presto! Arrivederci, Barchetta! Vuoi sapere che aggiusteremo la prossima volta? Iscriviti al canale! Alla prossima! Ciao, ciao! Eccomi tornato! Ciao! 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 ! Ciao! Ciao! Grazie.